Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano 3 km di code a tratti per lavori tra Versilia e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio in direzione Rosignano. In A1 rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia in direzione Bologna. Per quanto riguarda i lavori notturni, stanotte in A11 in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Montecatini-Terme in entrata in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPILI, un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli-Est in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!